In scatto, in scatto, in scatto, in scatto, ci hanno dimostrato tutto il loro affetto, sono venuta su scattuto, sono venuta su, c'è lo più, ci sono tante cose che vorrei dirvi in questo momento, però, però non c'è niente, perché il momento è arrivato, è arrivato il loro momento. In scatto, in��ere se mi dimentare così, nemmeno un Wyatt con scatto, in scatto, in scatto, in scatto, in scatto, ci hanno dimostrato tutto il nostro amore, non sapete perché mi stadi affrontando tutto questo, da dare la torta, signore, Un applauso!